Ciao a tutti ragazzi, sono Tau Mirko, bentornati su Gameplay Channel Dead by Daylight, siamo qua con degli amici su Discord, sul gruppo Discord, Milo e sono con Ferlollo e con Stefan Gamer, giusto? Sì. Ok, scusami, non mi ricordavo il tuo nome. Ragazzi e l'infermiero. Saluto tutti. Ok, ha beccato già Stefan. Ciao a tutti ragazzi. Ah, che cavolo è sti? Mi sa che ci sono i corvi. Oh, aspetta, ti do una mano, chi sei? Ah, vi do una mano, se ce la facciamo. L'infermiero ce l'ho dietro. Ok, vai. Ragazzi, mi dirigo alla casa, cioè quindi allontanatevi se siete là. Ok, ok. Ah, e l'ha preso. Mannaggia. Vai. Ahia. Ok. Vai, uno l'abbiamo fatto, via. L'infermiero ce l'ha detto di trasporto, è un disastro? Eh, lo so. Ok, ha attaccato Stefan. Vedo se riesco a salvarlo. Proviamo. Proviamo, dai. Proviamoci. Eh, arriva, arriva, arriva. Via, 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 via. Via. Ahia, eh, ma ha preso me. Ha preso me. Il play scappa, lascia me. Eh, ci sto provando. Ce la facciamo. Scappa, 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 scappa. Via. Chi è che sta bene a sopporre? Scappa, scappa, scappa. Sì. Ok, fate perché tanto è dietro di me. Sono io. Occhio. E tiralo giù tu. Vabbè, tiralo giù io. Via. Eeeh, mi ha preso. Cacchio. Pensavo fosse dietro, speravo di farcele, invece no. Mi cura, mi cura, mi cura. Mi è lontana, è lontana. Occhio, è qua vicino a me. Mi ha lasciato per terra o non mi ha preso? Però vediamo se riesco a imboscarmi. No. Mi sa che sta venendo verso di voi. Occhio, perché mi ha lasciato per terra. Ora, ora ti vengono. No, no, è qua vicino a me. Occhio, non venite per adesso perché è qua. E qua vediamo se non mi vede più. No, mi ha visto. Schifosa. Maledetta. Intanto ti rompo le balle. Intanto ti rompo le balle. Divinco la T. Dai, dai, che ce la fai. L'infermiera è micigliare. Se uno la sa usare, secondo me. Eh, ma peso. Niente. Se uno la sa usare, se non lo sa. Occhio, che qua vicino. Occhio, sta spaccando un po' di pancali. È sempre qua in zona, eh. Occhio. Perché è dietro di me. Allora, lo vado a salvare al gameplay. Voi fate qualcosa. Eccola. Ma non mi ha preso. Eh. Jump. Ah, ok. Occhio, occhio. Via. Addio. T'ha preso? Vabbè, tanto vai che o qua giochiamo che rompiamo le scatole al kille tutto il tempo, appendendoci, liberandoci. La l'infermiera. Ok, grazie. Allora. Vediamo se riusciamo a salvare Grifo. No, no. Ci sono. Ah, ok, ok. Ok, allora io provo a fare un generatore intanto. Ok. Via, andiamo. Di qua, di qua, di qua. Sì, è già resta di qui. Vai, io ti seguo. Ok. Grifo, va ti aiutare da qualcun altro, ce l'ha con me. Dobbiamo fare anche il generatore. Contra tutto. Eh, noi ne stiamo facendo uno di generatore. Uno l'abbiamo fatto, giusto? Sì. Ok. Ok, vai, un altro è andato. Via. Oh, che spavento. Mamma mia, che spavento. No, scusami, scusami. Ho sbagliato io. Carca miseria. Ok, vai che sarà posto. Ok, perfetto. Non è posto, vai. Andiamo. Andiamo, via, via, via. Andiamo di qua, tutti e tre. Allora, qua c'è già un generatore già fatto. Vediamo se ne becchiamo altri. Ragazzi, ragazzi, sono dietro di voi. Ci sono dietro Grifo e Ferlollo. Rado, sì, sì. Grifo, sono dietro di te. Vai. Andiamo, dai. Qua i generatori non ce n'è? Ce n'è uno qua dentro, mi sembra. Grifo, grazie per l'aiuto. Sei utile. Molto. Eh, cacchio, qua vicino a me. E là, e là, e là, porca miseria. Eh, ma visto, ma visto. Eh, mo mi becca, lo sapevo. No, no, non giù, non giù. Rincoglionita, mi è andata giù. Via, 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 scappa, scappa, scappa. Ma proprio scappa, scappa. E' ancora che mi va giù questa qua. Eh, ce l'ha con me. Ce l'ha con me, ce l'ha con me. Qua c'è un generatore, non fatto. Occhio, eh, che ce l'ho dietro, ragazzi. Via, via, che ce l'ho dietro. E' qua vicino. Oh, no. Ok, vediamo in bosco. Eh, ma ha ferito, però, ma. Camise. No, ma ha preso, al volo, porco giuda. L'ha preso? Sì, al volo l'ha preso. Prova ad andare a fare qualche generatore, allora. Ma, ma buttato per terra. Ma buttato per terra. Prova a recuperare un po'. Ah, mancato. Lisciato. Sei per terra? Ah, sei là, ok, tu hai visto. Eh, sì. Ok, sono con Grig. Tutte e due. Pazzo. Eh, l'infermiera... Ah, io aspetto un attimo, vedo se riesco a fare un generatore, intanto che... È bastardo, proprio. Abbiamo Ferlollo dietro. Brava. Ah, uno va... Chi è che ha preso? A me, a me, a me. Ok. Per l'ho, l'aiuto a Grig, mentre io sono... Vai. Con questa vizia brutta. Ah, guardala là. Mi sta portando sotto, mi sta portando sotto. Eh, sì, ci sono qua io vicino, eh, tra l'altro. Mi sono liberato... No, dai, mi ero liberato. Merda. Eh, che cavolo è? Eh, se ti è stata asportata qua, porca miseria. Ma che cosa sta scudendo il generatore in faccia? Eh, a me. Mi è esploso uno e mi ha preso perché ero lì vicino a te, tra l'altro. Ho detto, faccio il generatore, così poi ti vengo a salvare. Manco per le balle. Grazie, Grifo. Aspetta che non ti aiuto. Dove vai? I quali qua, sbagliato. E' un colpito. Occhio, perché qua dietro di me, eh, ce l'ho io dietro. Fate quello che dovete. E sono sempre intorno alla casa dove t'ha preso. Ok, gli sono sfuggito. Ah, sono dietro qualcuno. Non so se Grifo... Occhio, è qua dietro. Ecco, mi ha preso. Scappa, scappa, Grifo. Scappa, no, era Stefan. Scappa. Cacchio. Io mi imbosco intanto. Vediamo se riesco a imboscarmi. Eh. Si ha presi a tutte e due, eh. Eh, lo va a recuperare. E a me è una volta ma già appeso. Vediamo se riesco a recuperare. Eh, la partitaccia questa. Eh, sì. Porca miseria, perché mi è esploso lì il generatore. Vaffanbagno, stavo guardando dove metteva Stefan. Con infermina. Occhio, eh, perché qua non so chi è che si sta avvicinando. Oh, io, c'ho io. Eh, occhio, perché qua vicino. Mi sono divincolato. Scappa, scappa, scappa. Ah, ok, grazie. Scappa, scappa, scappa. Questo cavolo di teletrasporto. Eh, sì. È una rottura di palle. Oh, mi ha abbandonato. Oh, occhio è qua. Porca miseria, non l'ho vista. Non l'ho vista arrivare. Lei non è andato a te. Eh, è un bel po'. Non ti ti ha appeso. No, ha appeso solo una. Ok. E io non sono in condizioni. Eh, sto sempre qua, eh. Sono qua per terra. Io non sono in condizioni, scusa. Scappate perché qua, eh. Scappate perché qua. Vediamo se riesco a trovare un kit decente. Ok, mi sa che mi ha mollato, eh. Ah, ok. Occhio no, si sta avvicinando. Occhio qua, scappa, scappa, scappa. Maledetta. Un kit medico che fanno schifo. Aia, mi sono pure ferito da solo. Ma se mi ferisco mentre mi curo, mi vado? Non lo so. Ok, mi sto imboscando. Con sto cavolo di merda, di trasporto, guarda. Io provo a imboscarmi qua dietro. Mi è un pleto, l'ho detto, io non posso. Mi dispiace troppo. Sì, sì, no. Non sono in condizioni. No, no, piuttosto se riuscite a curarvi tre di voi cerchiamo di fare i generatori. Un altro kit, un altro kit. Un altro kit ho trovato. Ok. Ok, mi sa che mi ha perso, non mi vede più, eh. Ok, curatevi fra di voi prima. Esatto, il problema è che sto sempre bene. Occhio perché è vicino a me, eh. Non venite perché è alla mia destra. Quindi non venite. È qua che mi sta cercando perché mi ha perso. Mi vede più. Ce l'ho. E dietro? No, mo' mi ha visto, mi sa. Eh, sì, mo' mi ha visto. Eh, no, mi ha preso. Sei morto. No, no, mi ha preso. Adesso mi sta portando... Dove? Fate i generatori, mi sa che mi porta sotto anche a me. Eh, tocca fargli, che sforzo. Sì, mi sta portando sotto. Ok. Per follo? Carca miseria. Eh, ma ha preso sotto. Posso provare, posso provare, però... Per me è un consiglio. Eh, io... Non so. Sono anche... E poi non sono nemmeno in condizioni di aiutare. Eh, ma tu stai bene adesso. Sì, stai bene, però se mi... Se mi appendo l'ultima volta... Sei morto? Sì, anche io sono morto. Eh, per me è la seconda, ma... Per Lollo è lungo. Anche se non può parlare, il poverino. Per Lollo c'è la cassetta. Eh, no, niente, è morto. No, niente. Morto. Sì, è un amico fedele. Grifo, grifo, aspetta. Grifo, aspetta. Ah, sei tu? Carca miseria. Siamo... Siamo noi. E non due. Ok. Eh, sono morto sì, vediamo gli altri. Allora, fa il generatore, dai. Sì, come è, perché ve ne mancano solo due. Io mi metto modalità spettatore. Problema... Vabbè, qualcosina... Qualcosina l'abbiamo fatta. Ehi, che siamo i generatori. Sì, ma io ne ho capito dove volete andare. Allora, ma tu, tutti sono fatti. Tutti, tutti. Proprio, gli unici che mancano sono. E uno era vicino alla casa perché lo stavo facendo io. Era a metà, poi mi è scoppiato e è arrivato il killer. Quindi uno lì vicino alla casa. Eh, sì, più o meno era a metà. Oh, cavolo, cavolo. Ok, sì, lo vediamo, lo vediamo. Ah, se ne sta andando. E uno lì... Ah, sta a fondo lì vicino. Sì, sì, lo so. Io sto girando attorno a un... Sembra la ruota di un carro armato per sfuggire lì. Ah, eccolo qua, sì, però, questo, infatti. Allora, io sto fermo perché ce l'ho qua, vicino. Ah, no, lì, è un po' lontano. Sento il battito. Occhio, sì. Quello che il suo generatore... Chi è che ho abbandonato? No. Ah, via. Per fuori giuda, sento la cosa. Ciao, io mi vado a chiudere nell'armadietto. Non aprite gli armadietti perché c'è stato dentro io. Grifo mi sa che t'ha mollato, eh, perché non sento più il battito. Sì, sì. Vabbè, è dentro la casa, è dentro la casa. Non torna da quella generatore, il cavo. Sta dentro la casa, si sta accamperando dentro la casa. Ragazzi, fate gli artigianatori, perché ora se la starà accamperando, appena lo finiscono, ci vado subito. No, no, sento il rumore del battito. Sì. Ok, 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 ho capito dove ho capito, dove ho capito. Sto da solo, comunque. Per Lollo non aprire quell'armadietto ci sono dentro io. Non aprire quella porta. Per Lollo ti ha visto, stai attento. Dai, facciamo sti genetore del cavolo, non è possibile. Io vado all'altra parte. Ragazzi, voi fate quello? Io ne sto a fare uno da solo. Sì, griffo ha quasi finito il generatore qua. Allora provo a finire. Se riuscite a finire quello lì vicino alla casa, che era quasi fatto, si attiva l'uscita. No, ma ha fregato. Eh. Eh. È troppo veloce alla fine, è più veloce. Per Lollo, tienila distratta, ora apriamo tutte e due le porte, così appena ne hai una davanti. Occhio che arriva, griffo. Arriba. Non so da dove viene. Paolo, ce l'ho dietro. Ce l'ho dietro. Vai, che l'hai fatto, griffo? Sì, sì, ma ne manca uno. Ah, è grande. No, no, è l'uscita. No, ragazzi, sono a terra. Vabbè, io sono morto. È proprio la fine. È un problema. Vabbè, salvatevi voi, salvatevi. Eh, sì. Vediamo se ce la fanno. Mamma mia, che tensione sto gioco. Ma non crede. Mette un'ansia. Eh dai, sì, veramente. Ma poi il casino è che quando fai il test di abilità, quando iniziano le urla, i suoni, non senti il suono prima del test. Ogni tanto a me frega per quel motivo lì. No, ma poi poi viene un maligno appena quella urla. Eh, sì, perché quando urla, infatti a me prima mi ha fregato. Perché sai che il test di abilità ti fa un suono prima di... Eh, solo che quando quella... Allora, lui mi ha fregato l'unica porta che era chiusa. Eh, non lo so. Vabbè, stavo qui qui. Però ce l'ha ferlollo vicino, ce l'ha ferlollo. Allora ti... Ahia, l'ha presa. No, l'ha presa. Ah, l'ha presa in uscita. Ok, scappato. Lui è scappato. È scappato, è scappato. Quindi, lui mi fa scappa perché questa cosa è la porta. Vai subito al volo perché... Vai, 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 via, 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 scappa, scappa. Grande, grande, grande. Vabbè, 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 vabbè. Poteva andare meglio, ma... Eh, vabbè. Vabbè, dai, però... Va bene, va bene. Quindi io adesso che ho fatto 8.000, praticamente me ne da 16.000? No. Aspetta, adesso guardiamo, eh. Sì, sì, penso che sì. No, ma da più punti. Da più punti, non è in basso a quanti ne fai. Ah, ok, ok. Cioè, su di qua, sì. Sto potenziando quella di colore, poi io lo sprinto. Allora, vediamo, fasciature... Allora. Kit medico. Uh, il kit medico lo prendo. Ma Alec, questo... Ah, beh, guarda il corso. Sto misteriosa. Allora, io intanto miglioro un po' qua. Oh, l'abilità sabotatore c'è. Ah, no, aspetta. C'ho 37.000 punti adesso. Qua santa degli attrezzi. Ok, via. Vai, siamo arrivati a livello 4. È stato molto bello, dai. È andata bene. Dai, io intanto stacco qua il video così non viene eccessivamente lungo. Tanto dai, questa abbiamo fatta. Vabbè, io sono morto tanto per cambiare. Vabbè, comunque, si sta aumentando. Sì, no, dai. Va bene, va bene. È per divertirci. Esatto. Sono un po' migliorati. Ma sì, dai, piano piano si migliora. Insomma, anche nel test abilità ne ho cercato giusto un paio, ma piano piano si migliora. Va bene, dai. Quindi, ringrazio tutti. Vi invitiamo, appunto, sul gruppo Discord che trovate in descrizione, perché come vedete, insomma, di tanto in tanto, per chi vuole, ci becchiamo e registriamo, giochiamo anche insieme. Quindi, mi raccomando, vi aspettiamo. Detto questo, ragazzi, grazie mille a tutti, a Ferlollo, che non si sente perché ha un problema con il microfono, ma comunque c'era anche lui in game, l'avete visto. Ovviamente Milo e il buon Stefan Gamer. Grazie, ragazzi. Ciao, ragazzi. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.